La mappa segreta raga per chi ha la special e la ultimate edition soltanto per voi Si trova esattamente qua dentro In questa zona qui, vi faccio vedere anche nella minimappa Qua a Limp... Limpani? Limpami? Limp... Lumpalumpa? Qui in questa zona, vi zoomo così potete capire esattamente dove Qua dentro E dovrebbe esserci un foglietto da qualche parte ragazzi Non chiedetemi dove, come, perché Perfetto, ecco la mappa Vicino al morto Spettacolo E abbiamo la mappa De Tresor de Smorts La mappa dei morti abbiamo Ma quante cose vi faccio vedere raga Ma quanti segreti top secret Vi metto all'occorrente Perfetto ragazzi Siamo giunti nella seconda location dove trovare la super mappa del tesoro È esattamente... È esattamente qua da qualche parte Fatemi dare un'occhiata un attimo eh Prendiamo la nostra lucetta raga Si continua dentro qua al passaggio sotterraneo E qui dove c'è l'unica cassa Dovrebbe esserci qualcosa Ecco qua Ispeziona Dentro qua E... Trac! Soldi Trenta dollari E... L'indovinello Esamina il documento Indovinello del Tresor de Morts Leggi Dove le maree si sollevano Ma i morti restano all'asciutto E le luci colorate cadono Quando il sole è in cielo Lì a sinistra Troverai la nostra ricchezza Senza la nostra salute Per noi è inutile Quindi ragazzi Mettiamo via l'indovinello E dirigiamoci verso Il terzo e ultimo indizio Non ho fatto vedere chiaramente Dove cavolo mi trovavo Mi sono dimenticato questo Qui è tutta la mappa raga Giù in fondo Vicino Rhodes E noi siamo entrati qua dentro Eravamo proprio qua Dentro qui L'ultimo indizio Si trova dentro al cimitero Che è possibile trovare raga Qua in alto Sempre qui a San Denis Prima eravamo qua giù Esattamente in questo punto Adesso ci troviamo Qua in alto nel cimitero E dobbiamo andare qua dentro Esattamente Qua sulla sinistra Mi pare dentro Eh la chiesetta là in mezzo Si va Qua dentro Track Aspettate eh Di qua Di là Di su Di giù Abbiamo sbagliato magari L'ingresso Però è uguale Si entra qui E esaminiamo il muro Cosa ci sarà mai dentro raga Mamma mia E la missione E la missione è stata completata Il tesoro dei morti È stato finito raga In più ci prendiamo anche il moonshine E le figurine delle sigarette Trova un tesoro È stato fatto anche il tesoro dei morti Completato raga E le figurine delle sue E le figurine delle sue